Operai, operarie, vi parlo a nome dei vostri compagni studenti! Sono le otto del mattino, oggi, quando volete, sarà già buio! Per voi la luce del sole, oggi non splenderà! Vi cuocerete al cottimo, otto ore di cottimo, e uscirete stanchi, svuotati, convinti di avere guadagnato la vostra giornata, e invece sarete stati derubati, sì, derubati, di otto ore, la vostra vita! Non è col cottimo che volete guadagnarvi più, ma col vostro legittimo salario! C'è col cottimo guadagnato! Chi è che ti manda, c'è? Ma perché non torni all'università a studiare? E ti merdote di più! Loro i palloni! E guardi! Eccoli i regali che vi fa il cottimo! Eccoli! Sopero, tutti uniti! Sopero, tutti uniti!